Ormai da un mese si parla di tensioni all'interno della maggioranza che governa la regione Abruzzo, ci sono state delle defezioni, si parla di un rimpasto di giunta, ma ad oggi nulla è stato ancora definito. Noi siamo con il vicepresidente del Consiglio regionale Paolo Gatti, qual è la sua opinione su quello che sta accadendo? Insomma l'opinione di sconcerto e un po' anche di sconforto perché da oltre un mese che la regione che prima era piuttosto lenta e confusa adesso è completamente ferma, il dibattito è soltanto un dibattito così di stampo giornalistico su poltrone, spostamenti, deleghe, però insomma sui grandi temi e sulle urgenze, l'emergenza della regione, completamente fermi e bloccati, è uscito questo dato agghiacciante della disoccupazione in Abruzzo al 13,6%, quando la media nazionale è al 12%, insomma eppure non si vedono politiche del lavoro, non si vede una pianificazione sanitaria, insomma mi sembra che sia uno dei momenti più bui che io ricordi degli ultimi lustri della regione Abruzzo. Gatti, alcuni osservatori imputano questa situazione di impasse all'interno della maggioranza anche alla legge elettorale regionale con cui questa volta si è votato appunto per la prima volta. I numeri sono troppo bassi rispetto ai rapporti maggioranza-opposizione? Io direi di no, nel senso che tutti vorrebbero avere una maggioranza larghissima, ma con la legge elettorale è uscito un risultato 18 a 13, maggioranza 18, minoranza 13, è un rapporto normale credo di 55-60% la maggioranza e 40% le minoranze. Non mi pare che sia questo il dato, il dato è che c'è una regione mal gestita, mal governata, un deficit di coesione delle liste che hanno vinto le elezioni e la coesione è un fattore, come posso dire, fondamentale poi per poter governare e ben governare, qui manca il presupposto di base. Prenderla scusa che è la legge elettorale, io credo che abbiamo una buona legge elettorale, poi si può discutere di tutto, ma la legge elettorale è buona e c'è qualcos'altro che è meno buono.